Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della mia cucina Pulizia del viso, vostra grandissima richiesta su Instagram Seguitemi sempre su Instagram, mi raccomando Perché là vi chiedo sempre cose in anteprima E là mi avete tanto richiesto questa cosa della pulizia del viso Inizia sempre con la pentola di acqua calda Carlita Style Come potete ricordare dai miei video di 10 anni fa Sempre i vapori per aprire i pori Iniziamo subito ragazzi perché questo video se no verrà lunghissimo Faccio vedere una pulizia del viso casalinga Che potete fare e che veramente vi elimina tutti i punti neri, i pori dilatati, i brufoli E vi ripara la pelle anche all'estate Perché in estate ragazzi è bello avere una pelle più pulita Perché usiamo poco trucco, a mare non ci trucchiamo Quindi avere le schifezzine in faccia è brutto Quindi vi aiuto Carlita Allora ragazzi, pentola con acqua bollente L'ho fatta proprio bollire La tolgo e ci aggiungo il bicarbonato Ne metto due cucchiaini E ci aggiungo il tea tree oil Faccio sempre così Questo è il tea tree oil che abbiamo su calitashop.com Ed è uno nei miei preferiti Tutti i prodotti che vi mostro in questo video Ovviamente li trovate su calitashop.com Che è il mio shop online Dove io inserisco tutti i miei prodotti preferiti al mondo Anzi se avete qualche prodotto che vi piace Che secondo voi è veramente eccellente e buono Me lo potete consigliare Io lo valuterò di inserirlo Perché io inserisco solo i miei prodotti preferiti Che uso proprio nel mio quotidiano Quindi vi farò vedere proprio Quali sono i prodotti che funzionano E questo è il tea tree oil E' veramente buonissimo ragazze Io abbondo Metto così Il tea tree oil è fondamentale Per eliminare i punti neri Brufoli eccetera Adesso mi metto qua In qualche minuto Non tantissimo A far aprire i miei pori Ah c'ho gli orecchini Anche questi sono i miei Che li trovate sul mio shop Ho quelli là con i cerchietti piccoli A cuore Sono troppo troppo carini ragazzi State io li faccio Guardate c'ho anche un brufolo Anche perciò mi sto facendo la pulizia del viso Perché voglio eliminare Cioè anche nel periodo del ciclo Quindi voglio eliminare queste impurità Dunque ragazzi io vado Qualche minuto così in infusione Per far rieprire i pori Non tantissimo Però un po' ci vuole Voi respirate anche mentre lo fate Vedete così vi fa bene anche alle vie respiratorie Questo qua fa bene a tutto Purifica la pelle Vi fa bene anche se avete un po' di raffreddore Un po' di munchi E soprattutto vi rilassate Io adoro perché Mamma mia è troppo bello e rilassante Mentre il tempo di fare questa cosa Non fa nulla Ovviamente se lo fate è meglio Ma già i prodotti che io adesso vi faccio vedere Sono top Quindi funzionano Anche se voi andate di fricca Non lo fate Questo non fa niente Le masche, le scabbe Vi faccio vedere sono ottimi Quindi funziona Però se lo fate è ancora meglio Adesso ragazzi Vi faccio vedere questo trucchetto Vi metto sul viso Questo qua Che è l'olio di cocco È il nuovo olio di cocco Che io ho inserito Su caritashop.com Ed è veramente fenomenale Nel aspetto perché è un barattolone Da mezzo litro E si può anche mangiare Ed è straconsigliato Perché è dietetico Quindi non ha colesterolo È super light Lo utilizzano tutti gli sportivi E poi Io lo utilizzo tantissimo Anche per farmi gli impacchi sui capelli È buonissimo ragazze Ma allora La cosa pazzesca ragazze È che ha un profumo Vi giuro Ha un profumo Di cocco pazzesco E io rimango male Quando gli oli di cocco Non profumano di cocco Questo è biologico Naturale Vergine Spremuto a freddo Lo potete usare per tutto Per gli impacchi Per stuccarli Per i capelli Per tutto Vi metto il link Di tutti i prodotti Che vi faccio vedere Nel box info sotto Così subito li trovate Comunque Se andate sul mio shop online È facilissimo Ci sono tutte le categorie Adesso vi faccio vedere Perché faccio questa cosa Io prendo una noce Voi dovete vedere Che fantastica cosa È questo olio di cocco È cremosissimo ragazze Cioè la nuova videocamera Secondo voi com'è Perché le ho rotte tutte le altre Ho comprato questa Ma Lo so Non mette tanto bene a fuoco Comunque Allora ragazze È di una cremosità Cioè guardate qua È una crema Io non ho mai visto Un olio di cocco così bello È favoloso Allora Io praticamente A parte che Veramente lo vorrei mangiare E lo potete mangiare Per il commestibile Io faccio tipo una pulizia Con l'olio di cocco Lo metto su tutto il viso Perché non so se sapete Che l'olio di cocco Soprattutto questo qua Che è buono di qualità È anche antibatterico Quindi è consigliato Quindi è consigliato Anche per pulire il viso Vedete Proprio per pulire A fondo i pori E anche per le pelli Acneiche Perché appunto È antibatterico Quindi ha questa funzione Io che faccio Lo spalmo sul viso In questo modo E mi metto proprio Quei vapori Così penetra Bene nel viso E pulisce la pelle Già questa cosa Vi cambierà Veramente la vostra pelle Vi giuro Diventerà super luminosa E pulita Col calore L'olio di cocco Si scioglia E penetra Nella pelle Pulendola a fondo Vi ripeto Eliminando anche Brufoletti Eccetera Perché è antibatterico Grazie a questo punto Io vado a Asciugare Il viso E vado a lavarlo Con il detergente viso Allora La linea che voglio Assuale consigliarvi È questa qua Al carbone Ragazzi È favolosa Ed è una novità Assoluta Che ho inserito Sul mio shop online È tutta una linea Purificante Proprio contro I brufoli I punti neri Quindi è ottima Per pulire il viso I pori dilatati Le imperfezioni È veramente favolosa Ragazzi Per pelle grassa Mista Proprio per purificare La pelle Quindi io Veramente Me li straconsiglio Con tutto il cuore Questi prodotti Sono ottimi E comprende appunto Lo scrub E la maschera nera Che è ottima E la maschera al carbone Quella che elimina Tutte le impurità E dopo la facciamo insieme E comprende anche Il bagno schiuma Che io lo amo È tutto nero Al carbone Purificante Elimina anche I brufoletti È anche molto tonificante Shampoo e bassano Anche sono purificanti E sono ottimi Per capelli grassi O comunque Per se vuoi equilibrare Quindi fanno durare I capelli più puliti Più a lungo Il dentifricio Che vi giuro È buonissimo Ha un ottimo sapore Anche questo qua Il dentifricio è nero Cosa pazzesca Guardate È nero Bellissimo È un sapore freschissimo Sbianca i denti E lascia un fiato Super fresco Comunque questa linea Che vi ripeto Ho inserito da pochissimo Sul mio shop online È veramente Una delle migliori linee Che io abbia mai provato Per pelle missa Grasso Comunque purificante E vi ripeto Fa tutto E la chicca È questo qua Il detergente viso Che adesso vado a usare Appunto per lavare il viso E questo qua Lo dovete usare Mattina e sera Per lavare il viso La mattina Appena vi svegliate E la sera Dopo esservi struccate Vi fate una passata di questo E vi assicura Una pelle Guardate Vedete che è nero Vi assicura Una pelle pulita Questo appunto Contiene carbone Acidi della frutta T3 Ha un profumo Buonissimo E super imprescante Comunque Adesso mi vado Vedete Fa pure una bella schiuma Adesso mi vado a lavare E torno Completamente pulito E detesso Quindi anche se voi Avevate Tracce Di trucco Con l'olio di cocco Vi siete struccate Perché questo qua Va benissimo Per struccarvi Quindi abbiamo rimosso Il trucco Abbiamo rimosso L'impurità Abbiamo lavato il viso Adesso andiamo a fare Il nostro scrub Al carbone Che è veramente Fenomenale Allora Questo qua Va applicato Sul viso E va massaggiato Con i polpastrelli In questo modo Ha dei granuli Abbastanza spessi Però non tantissimo Quindi va bene Per tutti i tipi di pelle Perché non è aggressivo Ovviamente Se voi vi scrabate Come delle forsennate Lo potrebbe diventare Però Basta fare Un semplice massaggio Vedete così Che riattiva Tutta la circolazione Tutto naso Fronte e mento Dove di solito Ci sono di più Le ruvidità Questo vi elimina Le ruvidità I punti neri I brufolettini Anche quei brufoli Che magari Sono sotto pelle Non riescono ad uscire E vi lascia La pelle Liscissima Pulita Vi giuro Se fate questo trattamento È meglio Di qualsiasi Cosa Voi spesso Mi chiedete anche Io lo lascio Anche tipo un minuto Così Mi chiedete sempre E mi dite Caritano Come fai ad avere Una bella pelle Così Mi date anche spesso Molti meno anni Di quelli che io ho Io uso semplicemente Questi prodotti Perché sono veramente validi E quindi hanno Degli estratti E degli ingredienti Che vanno Vanno veramente A migliorare la pelle Con l'uso Giorno dopo giorno Proprio nella vostra routine Io sono anni Che li uso Questi prodotti E che vi consiglio sempre E quindi ormai La mia pelle È sempre bella Perché li uso sempre Quindi se voi L'userete sempre Sempre questi prodotti Mesi dopo mesi Prodotti che io vi consiglio Vedrete che avete Una pelle bellissima Non ci piove E vi giuro Che mi scrivono ragazze Che veramente Hanno risolto problemi Con questi prodotti Che non riuscivano a risolvere Con creme da farmacia Dermatologi Perché comunque Quelli che contengono Paraffina Ingredienti Che occludono Anche pori Anzi causano Ancora di più Impurità Io ho anche su Instagram Pubblico Il primo e dopo Delle foto Di ragazze con macchie Con brufoli Che veramente Con questi prodotti Si elimina tutto Quindi ragazze Provate E vedrete i risultati Adesso mi vado a sciacquare Il viso E torno Adesso col viso sciacquato E vi giuro Che già Ho la pelle Bellissima Mi vado a fare Il passaggio Che io amo di più Ovvero La maschera Viso Eccola qua La mitica Maschera al carbone Ragazzi Vi giuro Io la amo E da quando la proverete Vi innamorerete Di questa maschera Perché è veramente Miracolosa Questa è la famosissima Maschera Nera al carbone Ovviamente Questa è bio Naturale E 100% Biologica E questa serve Proprio per eliminare Aspettate che mi avvicino Questa serve Per eliminare I brufoli I punti neri Le imperfezioni Le impurità Mi dà anche Molta luminosità Al viso E' veramente Favolosa Questa maschera Ragazze Vi giuro Io la amo Poi è un profumo Pazzesco Provatela E ditemi Se non è Miracolosa Ora ragazzi Questa maschera Io vi consiglio Di metterla Anche sul corpo Se avete problema Di brufoli Per le grassa Per le impura Ad esempio La potete mettere Tipo sul decoltè Spesso si hanno Dei brufoletti Anche sulla schiena Sulle braccia E' veramente Fenomenale Con questa Eliminate Anche problemi Veramente seri Di acne E non solo Elimina le impurità E i brufoli I punti neri Li toglie tutti Subito Istantaneamente Già dalla prima volta Ma col tempo Vi aiuterà Anche a schiarire I segni Post acne Perché ha un potere Anche schiarente Sulle macchette Sui segni post acne Comunque ragazze E' veramente top Vi metto il link Nei box info sotto E' veramente fenomenale Già so che dopo Questo video Andrà a ruba Perché quando vi mostro Le cose del mio shop Appena ve le mostro Subito vanno a ruba Quindi fate in fritta E adesso La lascio in posa Dieci minuti Di solito Le maschere Ragazze Se sentite che Vi pizzicano Vi bruciano Vi tirano Così Vuol dire che Le dovete sciacquare E ce l'avete su Da tanto tempo Da troppo tempo Io di solito Non faccio mai arrivare A quel punto Quindi Perché comunque Questi sono prodotti Molto efficaci Non c'è bisogno Che li lasciate Tantissimo in posa Sono ricchi di ingredienti Cioè se voi leggete Questa c'ha di tutto Il urte al carbone Vegetale attivo C'ha tanti estratti C'ha l'estratto di cetriolo C'ha tanti oli essenziali C'ha tante cose Che funzionano Quindi basta poco Veramente 5-10 minuti E già la potete rimuovere Un'altra maschera Ragazze Che vi straconsiglio E che anche questa Ho inserito Sul mio shop Perché mi sono Innamorata La maschera nera Black cray A base di argilla nera E' veramente fenomenale L'argilla nera Aiuta a combattere La pelle acneica E i punti neri Regolarizzando La produzione Di sebo Ha un effetto astringente Sui pori del viso Limitando L'eccessiva produzione Di sebo Quindi il viso E' più luminoso E' più pulito Elimina anche questa Tutti i punti neri Tutte le imperfezioni Vi chiude i pori dilatati E' ottimo Anche questa qua Ve la straconsiglio E questa Se la prendete Compratela Assieme all'attivatore Vi metto sempre Tutti i link sotto L'attivatore Questo qua Basta che in una ciotolina In una ciotolina Voi mettete un cucchiaino Di questa Vi dura tantissimo Un po' di questo E ve l'applicate sul viso Anche un'ottima maschera Ditemi se volete Vedere anche L'applicazione di questa Magari ve la faccio vedere In un prossimo video Però è semplicissimo E in tante Già la state comprando Su caritashop.com E mi dite Che vi trovate bene Quindi Già vi posso dare Una recensione Veramente di massa Super positiva Vedete che la maschera Si sta asciugando La vado a rimuovere Con una spugnetta E acqua calda Ragazzi Ho torto la maschera Vi giuro C'ho una pelle Stupenda Senza impurità Super luminosa E senza Cioè non c'ho più Un punto nero E dopo l'intervento Infatti in tante Mi hanno detto Sta cosa A causa delle bende Che c'erano Siano fatti Tantissimi punti neri Veramente proprio tanti Quindi grazie a questi Prodotti al carbone Veramente Io mi sono trovata Benissimo E ho fatto Ho tolto tutti i punti neri Già dalla prima applicazione Comunque provatevi Sono veramente top Adesso Adesso però Il passo importante È questo qua Il tonico E questo qua ragazzi Lo dovete usare sempre Mattina e sera Se volete avere una bella Pelle luminosa Questo qua Vi toglie i punti neri E vi chiude anche i pori Quindi E avete presente Quei pori dilatati Bruttissimi Questo qua Vi evita questa cosa Ed è troppo bello Perché profuma di rosa Questo è il mio tonico preferito Non so se si era capito Alla rosa È buonissimo Ragazzi Anche questo Vi metto il link Nel box info E lo trovate Nella sezione tonici Sul mio shop online In cui ci sono Tutti i miei tonici preferiti Non ne sono tantissimi Perché ovviamente Io metto solo Le cose che mi piacciono E quelli che veramente uso Però questo qua È veramente uno Dei miei preferitissimi Se non il preferito In assoluto Anche perché ha un profumo Di rosa Pazzesco Poi va bene Per tutti i tipi di pelle Comunque Io vi giuro Che d'estate Io amo usare il tonico A volte sapete che faccio Perché questo È un tonico alle rose Tipo un acqua alle rose Me lo metto anche Nello spray Me lo porto dietro Se durante il giorno Caldo Oppure tipo a mare Non so Ovunque mi trovo Me lo spruzzo in faccia Ma no Non sapete che sollevo Che mi dà È una cosa fantastica Comunque guardate Il dischetto Anche se vi struccate Se vi lavate C'è sempre sporco Perciò il passaggio Del tonico È fondamentale Ok Adesso Io mi vado a fare Anche questa maschera Qua Perché io Quando mi faccio Le maschere Ne faccio sempre Una prima Purificante E una dopo Idratante Illuminante E tra le maschere Idratanti Illuminanti Questa è tipo Una di quelle maschere Americane Glow Effetto glow Io amo tantissimo Questa E scusate Lo so C'ho un'unghia rotta Però oggi Le vado a tagliare tutte Perché mi sono spezzate Sono mie Però se spezzate Quindi penso Le accorcerò Vabbè Piccola parentesi E niente Questa maschera Anche ve la straconsiglio Questa è di Apiarium Ed è una delle maschere Più vendute Sul mio shop online Perché è veramente Una maschera Vi ripeto Che per quello che costa Cioè dovrebbe costare Molto di più È tipo proprio Quelle maschere americane Effetto glow Illuminante Molto molto Idratante Anti age Nutriente Illuminante Quindi va bene Per tutti i tipi di pelle Ed è veramente Fantastica Abbiamo proprio Una svegliata Al viso Sarete quando avete La pelle Anche un po' Spenta Un po' Proprio flush A velare in polpa Ve la illumina È fantastica Comunque Io ne prelevo sempre Guardate com'è bella Poi È ricca di burro di carité Veramente una cosa fantastica Io quando faccio Questa maschera Sapete che faccio Innanzitutto la metto Anche sul décolleté Proprio per idratare Ha un profumo buonissimo Oh mio Dio Tipo di vaniglia Troppo buono Comunque Adoro La metto dappertutto E la metto anche sul décolleté Proprio per idratare Anche Rassodare E la metto anche Molto spesso sulle mani Se ho le mani secche O comunque ho fatto Non so qualcosa Che mi si sono seccate Magari dopo aver fatto i piatti Fate anche una maschera Sulle mani Ah e cosa importante Si può mettere anche sul contorno occhi Le maschere non si mettono mai sul contorno occhi Tranne questa Questa sì Perché ha un effetto nutriente Illuminante Ricco di burro di carité Che vi dà anche a distendere le rughette Sul contorno occhi E alluminare lo sguardo Questa è proprio una maschera Viso e contorno occhi Mettetela anche sul collo Sulle mani Sulle coltelle Dove volete E la potete lasciare in posa Anche un po' in più Quindi rispetto alle comuni maschere Questa qua È proprio un vero e proprio Trattamento di bellezza Quindi anche un po' in più Veramente la vostra pelle Vi ringrazierà tantissimo Ragazzi Io questa qua Ve la straconsiglio È un must have Assoluto Contiene anche questo Acido ialuronico Tanti ingredienti ottimi Comunque Vi metto il link Anche di questa Nel box info Ragazzi Io ho pelle Sempre più luminosa È bella Veramente Non lo so Come ringraziarvi Perché Grazie a voi Che mi richiedete Questi video Io mi faccio Questi trattamenti Assieme a voi Ed è un piacere Perché dopo Poi apprezzo Veramente Quando uso Tutti questi prodotti Veramente la pelle Non so se mi ha tornato Dietro di 10 anni Ma nemmeno Perché poi Quando sei giovane C'è l'impurità C'è proprio Tipo come un bambino Perché non c'è Nell'impurità Dell'adolescenza Nelle rughe Quindi Vabbè Top Sono veramente Felice Adesso ragazzi Sono indecisa Se usare Come siro Sto usando sempre Prima il siro E poi la crema Mi sto trovando Benissimo Così E trovo Che la pelle Non si lucida E È veramente Molto più luminosa E più bella Quindi vi consiglio Questa cosa I miei due seri preferiti Del momento Sono questi due Il nuovo Siero acido Ialuronico Di Apiarium Stramo Questo qua Sono impazzita Quando veramente L'ho provato È top È veramente Ha una concentrazione Molto alta Di acido Ialuronico È bellissimo E quest'altro qua Anche però Ottimo Questo è un siero Ai sali del man morto Che ha Un effetto illuminante E anche purificante Anche questo è top E ha una consistenza Anche questa Tipica del siero Vedete È messo qua E io lo prelevo Con la pipetta Vedete È una consistenza Così Faccio vedere Magari la differenza Di due seri Questo è il siero Questo qua Purificante Illuminante Sali del man morto Tutta questa linea Su Caritas Shop La vendiamo tantissimo Perché è molto purificante E allo stesso tempo Illuminante Quindi è ottimo Vabbè Sali del man morto Sono fantastici Questa è la consistenza Di questo siero E faccio vedere La consistenza Dell'acido Ialuronico Che invece è proprio Un gel Anche questo però Vedete È molto leggero Cioè Sono gel Che si assorbono subito Adesso Mi li spalmo sulle mani Perché Peccato Insomma Sono davvero fenomenali Veramente sono fantastici Sono top Vabbè Mi applico questo qua Giusto per Ma sono veramente Uno più bello dell'altro Allora Questo qua Approfitto per dirvi questa cosa L'acido Ialuronico Si può usare sempre Anche d'estate Anche col sole Infatti Io questo me lo porto Anche in vacanza È piccolino È comodo E me lo metto anche la mattina Prima di andare a mare Me lo metto sempre Mattina e sera Sotto la crema E vi giuro Che la vostra pelle È molto più luminosa Rimpolpata Bella Senza imperfezioni È top E vi dicevo Il nome suo Vero Chimico E sodio Ialuronato Quindi non è un acido Si può usare sempre Anche d'estate Non vi crea assolutamente problemi Anzi La cosa bella È che si asciuga subito Tutti e due Questi seri ragazzi Si asciugano subito E adesso Sul contorno occhi Mi metto questo qua Che appunto Fa parte della stessa linea Ai sali del man morto Voi però potete anche Combinare i prodotti Io anche Non è che uso sempre Stessi prodotti Di una stessa linea Questo qua è bello Perché La consistenza è leggerissima E praticamente C'ha la pallina Vedete E ha un effetto Molto molto rinfrescante Sul contorno occhi È bellissimo Questo è il contorno occhi Sali del man morto Antiocchiaie E antiocchi gonfi Con questo effetto freddo Lo potete mettere Anche in frigorifero Diventa ancora più fresco Già solo l'effetto Della pallina È fantastico E poi Anche il prodotto Ricco di sali del man morto Che comunque È anche antiocchiaie Tonifica molto Molto tonificante Quindi va benissimo Adoro Veramente bellissimo Questo qua E sul viso Mi metto questa Sto usando tantissimo Questa crema viso Di Alchemilla Crema viso Iperidratante Con fattori di protezione Questa è ottima Questa crema Ve la straconsiglio Come crema da giorno Perché è una crema idratante Che però Protegge dal sole Quindi la potete usare Anche magari Come Come dopo sole Sul viso O anche Proprio se dovete andare a mare Comunque È un fattore di protezione Idrata il viso Ed è fantastica Questa crema Mi piace anche il profumo Poi Idrata Però Si assorbe in fretta Quindi non è Non lascia Avuto È molto asciutta Come crema La metto anche sul Collo Sempre E questo È quanto Ragazzi Ma no Mi dovete dire Quando avete mai Una pelle così Se fate questa routine Io aspetto le vostre foto Su Instagram Taggatemi E fatemi vedere La vostra pulizia del viso Carlita Style Veramente Ragazzi Guardate qua Cioè Sono diventata Un brillante Umano Guardate come brillo No a parte scherzi Vi dovete dire Sono troppo felice Sono troppo felice Quando ho questa pelle così Sono troppo felice Ragazzi Io vi ringrazio Per aver guardato il video Ciao! 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 Grazie a tutti.